Ma perché oggi un paio di scarpe costa più di una lavatrice? Questa cosa non è normale, ma però nessuno lo dice Ma se è vero che in curva il parcheggio non è autorizzato Come mai ci sono le strisce blu e sono sempre di più One, two, one, two Ma perché se io pago in contanti sono tutti un po' meno contenti Perché vogliono che faccio le rate anche per comprare patate Ma perché se mio nonno ha 80 anni lo chiamano vecchio Al governo uno di 90 anni fa le leggi per me Era meglio mio nonno C'ha dieci anni di meno Oh e poi scusate, è sempre mio nonno Qualcuno dovrà pur dirglielo Qualcuno comunque sia Qualcuno dovrà pur dirglielo Magari comincio io Non importa chi comincia Basta avere una pripista Ve lo presentiamo noi Maurizio Battista Bella apertura Sera